Oh mio Dio, ma allora esistono veramente? Hey Lavoghe Fanatici, io sono Dlarz e bentornati in questo nuovo episodio degli Acquisti Pokémon del mese. Mese di maggio e siamo a metà giugno. Dlarz, sei in ritardo con gli Acquisti Pokémon del mese. Qual è la novità? Nessuna, cioè veramente. Pensavate davvero che l'avrei caricato in orario? Un paio di volte all'anno può succedere, ma poi, cioè, basta no? Come avrete già letto dal titolo, in questo episodio degli Acquisti Pokémon del mese vi farò vedere alcuni dei Fidget Spinner dei Pokémon che ho trovato online, perché sì, esistono veramente, cavolo, non volevo crederci, che ho comprato da diverse parti del mondo e che finalmente sono arrivati. Ve li farò vedere alla fine del video perché ovviamente non ho comprato solo quelli questo mese e perdonatemi ancora una volta se l'episodio arriva in ritardo, ma non è colpa mia, è colpa dei Fidget Spinner che, porca miseria, ci hanno messo un casino ad arrivare. Quindi, diciamo che sono discolpato per questo mese e vai! Come ben saprete, i Fidget Spinner hanno rappresentato quella che è stata la moda dell'ultimo mese, barra mese e mezzo, barra due mesi. Da quando è che ci stanno i Fidget Spinner? Da un po', da un po'. Perché sto facendo un video solo adesso? Stesso motivo di prima! Insomma, nell'ultimo periodo si sono visti, non solo su YouTube Italia, ma su YouTube in generale, un casino di video sui Fidget Spinner. Fidget Spinner di qua, Fidget Spinner di là, Fidget Spinner infuocati, Fidget Spinner che tagliano la gamba di mia nonna, Fidget Spinner a torre, Fidget Spinner che volano, Fidget Spinner che sparano, altri Fidget Spinner... E se pensate che tutti quelli che hanno fatto dei video sui Fidget Spinner siano dei pessimi YouTubers, beh, da oggi ci sono anch'io in quella categoria. Ehi, ciao! Mamma mia, Lanza, adesso anche tu con i video dei Fidget Spinner! Mi hai proprio deluso, mi disiscrivo! In effetti a me non è che i Fidget Spinner piacciono poi così tanto, infatti non ne avevo comprato nemmeno uno, benché si trovino ovunque ormai, se ti fai un giro in centro trovi almeno 5 persone per ogni metro che cercano di vendertene uno, e li trovi in edicola, e nei supermercati, ovunque. Però io non avevo mai ceduto! Fino a quando non ho trovato online quelli dei Pokémon. E figuriamoci se io potevo farmi scappare quelli dei Pokémon! Già mai! Quindi in questo video vi beccherete la mia collezione di Fidget Spinner, ed eviterete anche di fare commenti acidi sul fatto che io abbia ceduto alla moda dei Fidget Spinner, perché non è assolutamente così. Non è così! Solo perché sono dei Pokémon li ho presi, ok? Ok? Prima di quelli però che lascerò alla fine del video, andiamo a vedere tutte le altre cose che mi sono comprato, barra, mi hanno regalato durante questo mese, che sono già in ritardo. Cerchiamo di non esserlo ancora di più. Prima di tutto abbiamo una cosa che mi sa che mi ha sfuggita nell'ultimo video dei regali, ovvero questa agendina portacarte di Pokémon nero e bianco, con i tre spadaccini leggendari, Virizion, Cobalion e Terrakion, e dietro Thunderous e Tornadus, di Pokémon nero e bianco con all'interno nulla. E questa mi sa che mi ha sfuggita veramente da qualche video dei regali, perché me la sono ritrovata un paio di giorni fa dietro al monitor. No, io la tengo in ordine la scrivania, ve lo giuro. Ed è da parte di Jack, quindi non mi ricordo se l'ho già fatta vedere in un video, in quel caso è la seconda volta che la vedete, ma dovevo assicurarmi di averla già fatta vedere. Grazie Jack! Poi, passiamo ad un altro stupendo, favoloso regalo da parte della mia ragazza, che è sempre così gentile, a regalarvi queste cose bellissime, questa volta fatte anche a mano da lei. Adesso vi farò vedere che cosa mi ha regalato la mia dolce metà. Ultimamente si è messa a lavorare con i Pizzla, quei cosini piccolini con cui si fanno le pixel art, quelle belle, poi piatte, tutte fighissime, bellissime, e me ne ha fatte un bel po' dei Pokémon. Ad esempio, qui abbiamo... Uh! Jesse e James, guardate quanto sono bellini. Poi abbiamo Snorlax. Perché? Perché ogni volta che qualcuno mi fa dei regali c'è sempre Snorlax di mezzo. Cosa state cercando di insinuare, eh? Anche tu, amore, cosa stai cercando di insinuare? Amore? Poi abbiamo un bellissimo Lottius! Che bello che vola nel cielo! Perché è il mio leggendario preferito. E poi abbiamo un altro dei miei leggendari preferiti, è questo. Oh mio Dio! È anche un po' più complicato da fare, quindi proprio per questo la ringrazio tantissimo. Dio! Oh mio Dio! È troppo bello. Cioè, guardate poi quanto è complesso da fare. Cioè, fate veramente un complimento alla mia ragazza qui sotto nei commenti, perché è stata bra-vi-sì-ma! Veramente. A proposito della mia ragazza, ho notato che in molti video ultimamente mi state chiedendo di uscire la mia ragazza. Ora, uscire non è proprio il termine più adatto, dato che non è un oggetto, questo teniamolo sempre bene a mente. Però in effetti, sì, avete ragione, dovrei farci qualche video. Motivo per cui vi annuncio che a breve ci saranno dei video con lei, dato che verrà a passare qualche giorno qui nella mia dimora e avremo senza dubbio modo di registrare qualche video insieme. Volete dei video con la mia dolce metà a cui piacciono i Pokémon? Come avrete sicuramente intuito. Fatemelo sapere con un bel commento qui sotto e con un pollice in su. E adesso, dopo due regali, passiamo finalmente ad un acquisto. Wow! Dlarz, ma allora qualcosa te la compri ancora? Brutto poveraccio che non sei altro. Sì, e tra l'altro, questo acquisto che ho fatto ha anche un piccolo aneddoto dietro che non so se faccia ridere o faccia piangere, ma ok. Vi ricordate in qualche episodio fa degli acquisti Pokémon del mese? Avevo fatto vedere la mia carta di Mew antico, ancora sigillata nella carta, quella originale, che mi ero appunto comprato. Ecco, è successo che durante una fiera, un evento, qualcosa, uno di voi, adesso non mi ricordo nemmeno per quale carta o per che cosa, insomma, aveva una carta che mi interessava particolarmente, io volevo averla a tutti i costi. Solamente che questo ragazzo, questa ragazza, non mi ricordo con chi stavo facendo lo scambio, perché è passato un po' di tempo, già si tratta dell'inverno scorso, voleva assolutamente che io gli scambiassi la mia carta di Mew antico, quella che vi avevo fatto vedere. Non voleva nient'altro, voleva solo quella. E dato che io, a quello scambio ci tenevo parecchio, a malincuore, ho scambiato per quella carta la mia, di Mew antico, ancora sigillata, ancora chiusa, e quindi... Addio Mew antico. Fino ad oggi però, perché me la sono ricomprata! Boom! Di nuovo sigillata, e tra l'altro, quella che avevo preso io era l'ultima in stock. Ho fatto di nuovo una ricerca e l'ho ribeccata di nuovo su eBay. Grazie, gentile signore che hai messo in vendita la tua carta di Mew sigillata. Grazie, perché adesso ce l'ho di nuovo. Questa volta no, non la riscambio di nuovo! Mia! Mia! Che poi, perché carta l'avevo scambiata? Non lo so. Quindi non posso nemmeno sapere se con il senno di poi me ne sono pentito oppure no, di quello scambio. Vabbè, adesso ce l'ho di nuovo. E infine, passiamo all'argomento clou del video, ovvero i fidget spinner dei Pokémon. Come vi avevo già detto all'inizio del video, non mi ricordo se ve l'ho detto oppure no, comunque, li ho presi da eBay. Alcuni vengono dalla Cina, alcuni vengono dal Regno Unito, insomma, da un po' di parti del mondo. Comunque, alla fine, sono riusciti ad arrivare quasi tutti, perché volevo fare un video bello. Ne avevo ordinati 5. Sono passati, non dico, no, un mese no, ma quasi, tipo 3 settimane, me ne sono arrivati solamente 3 su 5. quegli altri ancora non arrivano. Io non è che posso stare qui ad aspettare luglio per fare il video di maggio, perché poi la gente pensa che eh, grazie, ma fai gli episodi in ritardo, ma non ci pensi a noi, non è colpa mia! Non è colpa mia! Quindi niente, ve ne sono arrivati 3, per fortuna sono 3 dei più carini che c'erano, anche se ce n'era uno di quei due che si illuminava addirittura, era dei Pokémon, faceva le luci, era fighissimo. Probabilmente mi arriverà a Natale di questo passo, ma va bene, facciamo il video con quello che abbiamo! Il primo che mi è arrivato è questo qui, come potete vedere è un fidget spinner normalissimo con la Pokéball al centro. Questo qui è stato il primo che mi è arrivato e anche quello che mi ha fatto più pentire dell'acquisto, perché l'ho pagato tipo 10 euro più la spedizione e guardate per quanto tempo gira! Fine. E l'ho spinnato al massimo. Il secondo che mi è arrivato è già molto molto più carino ed elaborato rispetto ad uno che ha semplicemente il centro a Pokéball ed è questo qui! Veramente, veramente figo ancora nella sua scatola originale tondo a forma di Pokéball. Ve lo faccio anche vedere da più vicino. Guardate che bellezza, che magnificenza! E adesso lo andremo a spinnare non per la prima volta perché l'ho già provato per evitare pale. Eccolo qui, come potete vedere molto molto carino fatto anche molto bene mi aspettavo di trovare una schifezza invece molto dettagliato. peccato ci avrei messo anche una cosa bianca al centro con il puntino per fare una Pokéball migliore però ci può stare. Questo spinna molto di più tipo un minuto e mezzo ho calcolato e ovviamente però non è che posso stare qui ad aspettare un minuto e mezzo cioè quell'altro spinna venti secondi e ci può stare ma questo no cioè basta basta dovrei fermarlo adesso è quasi ipnotico però devo fermarlo devo andare avanti con il video devo andare avanti con il video devo andare avanti con il video molto molto bello non c'è che dire questo è il mio secondo preferito perché il mio preferito in assoluto mi è arrivato esattamente tre giorni fa e dopo che è arrivato questo ho detto ok adesso il video si può fare raga è stupendo a parte che è fatto a mano e quindi è unico cioè non penso ne abbia fatti altri perché era unico in vendita su ebay magari adesso ne avrà fatti anche altri per venderli ma questo non è fatto da un'azienda tipo come questo o quell'altro è fatto proprio in casa ragazzi miei cari pochi fanatici ve lo faccio vedere allora questa è solo la parte di sopra si è un po' impolverato ok ma cioè guardate qui guardate qui è bellissimo cioè ammiratelo nel dettaglio fatto troppo bene con le pokeball e spinna un botto spinna più degli altri due tipo più di un minuto e mezzo quasi due minuti proviamolo cioè guardate quanto va veloce poi se volete comprarli anche voi vi basterà cercarli su ebay ho preso tutto da ebay basta che scrivete pokemon fidget spinner fidget spinner pokemon ne trovate a bizzef ce ne sono anche di diversi rispetto ai miei e ovviamente dopo aver registrato il video un po' di ore dopo cioè in questo momento mi è arrivato anche l'altro fidget spinner quello con la testa di pikachu che bello è bello cioè potete notare anche voi molto molto carino unico problema non spinna non spinna si ferma subito perché ci sono le orecchie di pikachu in mezzo è stato fatto da un incapace ok e adesso torniamo al video originale di qualche ora fa quindi miei cari poke fanatici direi che con questo episodio degli acquisti pokemon del mese ci possiamo fermare qui io vi ringrazio per avermi seguito anche oggi ricordatevi di lasciare un bel pollice in su e noi ci vediamo devo farli spinnare tutti e due per fare la conclusione e noi ci vediamo in un prossimo video bye bye a presto